Buongiorno a tutti, allora, 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 si sono disputate le gare di andata del terzo turno di qualificazione per l'Europa League tra martedì e giovedì, perché due partite si sono giocate martedì, tutte le altre si sono giocate ieri, venerdì, giovedì, scusate. Andiamo a vedere martedì come sono andate le gare, perché il Panavesis ha perso in casa contro il Maccabi Tel Aviv 2 a 1, quindi il Maccabi Tel Aviv ha già messo un piedino, un pezzettino di più, verso il quarto turno di qualificazione, prossimo turno, teoricamente. Poi, l'altra gara è stata tra il Petro Cub e i The New Saints ed è terminata 1 a 0 per il Petro Cub, quindi nella gara di ritorno i The New Saints hanno tutte le carte in regola per almeno andare ai supplementari, cioè rendere la sconfitta dell'andata, renderla al Petro Cub 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2. Ci può stare, giochi in casa. Veniamo alle gare di ieri, dove il Rapid Vienna, ragazzi miei, è andato a vincere in casa del Trabzonsport 1 a 0. Diciamo che è una vittoria che, scusate, è sempre il mio raffreddore, che il bronco di Riace, come inizia a fare i video, deve rompermi le scatole. Diciamo che è la vittoria del Rapid Vienna in Turchia, anche qui, piedino che punta verso il prossimo turno. Chi punta decisamente verso il prossimo turno è il Molde, che ha battuto nettamente il Circle Blush per 3 a 0 nella gara casalinga. Io credo che un 3 a 0 difficilmente sia ribaltabile, visto che comunque sono due squadre che più o meno si equivalgono. Però, Molde, Norvegia, Bruges, Belgio, magari gli riesce il miracolo, almeno di andare a supplementare e poi vediamo cosa succede. Il Kiki Kikokokokurukuru, io lo chiamo Kiki, chi è? Il KKI, ha battuto 2 a 1 in casa il Borak Banja Luka. Borak Banja Luka, che tra l'altro è finito anche in 10 dal trentacinquesimo del primo tempo. Quindi, tenendo conto che, beh, però c'è da dire che, però sì, perché vantaggio chi? Pareggio. Poi sono rimasti in 10, quelli del Borak Banja Luka, e un minuto dopo hanno subito il gol del 2 a 1. Quindi hanno giocato sotto di un gol, dopo aver appena subito un'espulsione, e sotto anche di un uomo per 10 minuti del primo tempo, più tutto il secondo tempo, e sono riusciti comunque a contenere il passivo nel 2 a 1, che si era già materializzato. Nella gara di ritorno, attenzione, perché il Borak potrebbe anche riuscire nel miracolo di pareggiare i conti, perché un 2 a 1 è comunque recuperabile. Proseguiamo con le gare di ieri, perché l'Ajax è andato a vincere in casa del Panathinaikos 1 a 0, e questo, ragazzi miei, è un risultato importantissimo, perché non è mai facile andare a vincere in casa delle squadre greche, Panathinaikos, Olympiakos, Aekap, Atene, eccetera, eccetera, eccetera. Sono sempre campi tosti, e quindi un Ajax che comunque sta cercando di tornare in auge, visto che l'anno scorso si sono qualificati per le coppe europee con gran fatica, perché addirittura a inizio campionato l'Ajax era addirittura nei bassi fondi della classifica, poi piano piano si sono ritirati su, sapete che seguì il campionato olandese, così tanto senza mettervelo su, perché sennò diventerebbe un macello. Proseguiamo, perché il Rigas è andato a vincere 2 a 0 in casa del Santa Coloma, e quindi anche il Rigas ha già un piede e mezzo nel prossimo turno. Il Lugano è andato a vincere in casa del Partizan Belgrado, e questa è una vittoria pesantissima, perché ragazzi miei non me la sarei mai aspettato che il Lugano vincesse in casa del Partizan, squadra che in casa si fa rispettare. Il Football League Club Krivbas, eccetera, 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 ha perso in casa 2 a 1 col Vittoria Pliessen, e qua ci può stare, perché il Vittoria Pliessen bazzica da anni le coppe europee, che sia la Champions, che sia l'Europa League, eccetera, è sempre in queste zone qua, il Rieca ha pareggiato in casa con l'Hesburg 1 a 1, e non ha neanche sfruttato, vediamo se è il termine giusto, non ha sfruttato il fatto di aver avuto per 35 minuti l'uomo in più, nel secondo tempo, perché c'è stata l'espulsione di Abdullai al 55esimo, tipico cognome di una squadra svedese, va beh, sorvogliamo, e quindi l'1 a 1 diciamo che lascia ancora tutto aperto, ci mancherebbe, però devi andare a giocare comunque in trasferta, e almeno non perdere, e giocare in Svezia non è mai semplice. Il Ceglie ha battuto 1 a 0 lo Shamrock Rovers nella gara a casa liga, quindi la squadra lo Shamrock Rovers ha tutte le carte in regola per provare a ribaltare la cosa. La Dynamo Binsk invece ha regolato 2 a 0 nella gara interna il Lincoln, e credo che la Dynamo Binsk sia già al turno successivo, proseguiamo con le gare, l'ultima è stata Braga Servet che è terminata con uno squallido 0 a 0, che lascia comunque tutto, 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 tutto aperto per la gara di ritorno. Gare di ritorno che si giocheranno tra martedì e mercoledì, due partite, e poi le altre tutte al giovedì, le due partite che si giocheranno martedì, cioè una martedì e una mercoledì, scusate ero a freddore, sono Die Nuseins-Petro Cub, terminata 1 a 0 per il Petro Cub all'andata, e Riga su Santa Coloma, che è terminata 2 a 0 per il Riga, e quindi a Riga smasterebbe anche perdere 1 a 0 e passerebbe comunque il turno, perché qua non c'è più la regola del col in casa col in trasferta, però se vinci 2 a 0 e perdi 1 a 0, passi tu, non è vinci l'andata, poi perdi al ritorno, vinci 10 a 0 all'andata, perdi 1 a 0 al ritorno, non si va in supplementare, Die è solo quando c'è l'aggregate, che il risultato è in perfetta parità, che una volta si guardava, che ha segnato più gol in trasferta, e adesso invece se l'aggregate è in perfetta parità, il cosiddetto aggregate che appare, cioè se l'andata termina con un risultato, al ritorno termina con un altro risultato, ma mettendo assieme i due risultati c'è un pareggio, si va in supplementare. Quindi martedì c'è The New Saints Petro Cube, e mercoledì c'è Rigas Santa Coloma. Poi giovedì si giocheranno tutte le altre partite, non ci sono state vittorie clamorose, c'è abbastanza equilibrio, certo ci sono delle vittorie in trasferta, sia un po' inaspettate, sia, e ci possano stare, ma di misura, e che quindi lasciano ancora tutto, tutto, tutto il discorso aperto, perché un 1-0, un 2-1, col fatto che adesso c'è la regola del gol in trasferta che non conta, anche se perdi in casa 2-1 al ritorno, magari di fortuna vince 1-0, si va in supplementare, e poi supplementare può succedere di tutto. Certo, certe vittorie per 2-0, come la Dinamo B su Lincoln, oltre a 0 del molde, appaiono abbastanza delle vittorie pesanti, ma per il resto si è segnato veramente pochino, 2-1, 1-0, 0-1, 3-0, appunto del molde, e poi c'è un 2-1, 1-0-1, 1-0-2, 1-0-1, 1-1-2, 1-1-1, 1-1-0, 1-2-0, 1-0-0, si è segnato poco, devo dire si è segnato pochino, equilibrio, 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 egoista, 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 no, c'è equilibrio, c'è equilibrio ragazzi. Curioso se per caso poi ci sarà un quarto turno, sì, ci sarà un quarto turno, ci sono già delle squadre in attesa, vi dico subito che nel quarto turno e quello finale ci saranno gli Ars, l'Underlet, il Bacatopola, il Besiktaks, il LASC, squadra austriaca, e basta. Queste sono le squadre che si aggiungeranno a quelle che poi passano il turno, quindi sono, dovrebbero essere 5, poi la da 1, 2, 3, 4, 5, perché le partite sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, e 13, no, 12, no, sono andato giù troppo, scusate, ho esagerato, chiedo Venia, sono andato già a quella dopo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, no, sono 13, 13 e 5 fa 18, e quindi ne restano 9, ne resteranno solo 9, perché sono 13 partite, quindi 13 squadre, se ne aggiungono 5, diventano 18, andate e ritorno, ne restano 9, che si aggiungeranno a quelle che ci sono già, vedremo come andrà, c'è ancora da fare, turno prossimo, che è le gale di ritorno, più un altro turno, e vabbè, ragazzi miei, voi calcolate, che negli anni 90, più o meno, le nazioni europee, erano intorno alle 30, 31, 32, adesso sono diventate 52, 53, capite benissimo, che le squadre, aumentano in maniera esponenziale, e quindi, ci sono tantissime squadre, da tenere in considerazione, una volta la Jugoslavia era unica, quindi c'era un campionato unico jugoslavo, eccetera, la Russia, si è smezzata, a parte il casino che c'è adesso con l'Ucraina, ma ci sono tutte le regioni baltiche, che anche loro si sono allontanate dalla Russia, la Russia si è rimpicciolita, tra virgolette, e quindi ci sono una marea di nuovi campionati, Lettonia, Lituania, eccetera, eccetera, prima erano tutti, facciamo parte, se non ero tutti della Confederazione Russia, se non ero, poi correggetemi se sbaglio, anche la Repubblica Ceca, adesso c'è la Repubblica Ceca e la Slovacchia, prima era Repubblica Ceca, o Cecoslovacchia, adesso c'è Repubblica Ceca e Slovacchia, quindi altri due campionati separate, vabbè, ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio, adesso vado a vedere come è andata la conference, che già ho paura, perché ci saranno 250 partite, e già ho paura, ciao!